Per i fortunati che hanno la memoria ancora reattiva, il ricordo dell'esame di maturità rappresenta un momento topico, uno spartiacque importante tra l'adolescenza e l'età pre-adulta. Insomma, da quel momento in poi si fa sul serio, che si lavori o si continui a studiare. Il boccino è, o dovrebbe essere, una questione di responsabilità personale. Certo, tanti di questi ragazzi, volenti o nolenti, resteranno per anni in seno e a carico della famiglia e si prenderanno le contumelie di questo o di quel ministro, bamboccioni, ciusi e così via. Ma il confine è comunque segnato e anche quest'anno la maturità, intesa almeno come esame di Stato, sarà presto archiviata. Prima però occorre superare le prove, a cominciare dalla prima, quella di italiano, che in Abruzzo oggi ha visto più di 10.000 studenti al banco, in Italia oltre mezzo milione. Le tracce erano tante e variegate, sette, da Quasimodo a Moravia, da Piero Angela a Oriana Fallaci, dall'idea di nazione all'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp. Fra tanti istituti superiori abbiamo scelto il liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, il preside Carlo Cappello. Come ogni anno i contenuti che vengono affrontati sono abbastanza relativi, la parte importante è come li affrontano, la capacità di esposizione, i ragazzi vengono messi in condizione di parlare. Forse nella scuola italiana questo è il valore aggiunto, i ragazzi nel loro colloquio dimostrano quello che è stato il percorso. In altre realtà anche europee non c'è tutta questa attenzione verso l'esposizione orale, quindi metterli alla prova in questo modo e non puntare tanto sui contenuti quanto sulle competenze sviluppate nel percorso dei cinque anni credo che sia molto importante e poi quando i ragazzi vanno all'università e soprattutto entrano nel mondo del lavoro la differenza si vede. Se fosse per lei avrebbe consigliato di prendersi fino all'ultimo minuto oppure se uno all'una, all'una e mezza ritiene di aver finito diciamo se ne va con serenità? Le scelte sono personali però un controllo anche su alcuni termini magari non scritti correttamente, ovviamente un'espressione formulata magari nel modo meno corretto, forse darsi del tempo, avere del tempo permette un po' ai ragazzi di rendere ancora meglio. Però è chiaro che se hanno terminato e hanno espresso tutto ciò che dovevano esprimere nei tempi vuol dire che erano anche sicuri e padroni della materia che stavano affrontando. Come per esempio Maya, studentessa del liceo Tascanio di Montesilvano. Per uscire prima del luna, il giorno della prima prova, che è la prova di italiano, bisogna essere bravi perché se no uno sta lì fino all'ultimo secondo a vedere, rivedere e rileggere. Tu sei? Maya Mergiotti. E sei brava? Eh, speriamo che è andata bene. Che tema hai scelto? Ho scelto la seconda tipologia C, che trattava praticamente della situazione attuale, in quanto grazie all'utilizzo ad esempio di WhatsApp si vuole avere tutto e subito e quindi le persone non hanno più pazienza. Bisognerebbe più che altro mettersi nei panni dell'altra persona, perché ad esempio se ci si trova a dover fare una fila, vuol dire che la persona sta lavorando per noi e che comunque bisogna rispettare il lavoro che fai, quindi per rispettare il lavoro bisogna sapere anche rispettare il tempo che bisogna attendere e quindi appunto bisogna prendere fiato dal rincorrere la vita. E visto che abbiamo ascoltato il preside del liceo scientifico Galilei di Pescara, andiamo a sentire due studenti, Matteo e Federico, rappresentanti di istituto. Belle tracce, io ho fatto la testo argomentativo tipo storiografico, quella di Oriana Fallaci, molto bella devo dire come traccia. Era molto impegnativa anche perché vi costringeva a parlare anche di storia. Sì, bisogna avere una conoscenza complessiva, però è giusto così, le siamo di maturità, quindi complesso. E invece tu? Io ho fatto la tipologia C, quindi quella appunto sul discorso dell'attesa, dell'uomo moderno, e in generale credo che comunque le tipologie e le tracce fossero tutte abbastanza stimolanti e alla fine ho fatto un po' un discorso sulla storia dell'attesa, come è cambiata dal passato ad oggi, credo che comunque sia andata bene, in generale sono abbastanza soddisfatto comunque delle prove e proposte, quindi è andata bene diciamo.